Io vorrei dire una cosa, spingere il Comune, il Consiglio Comunale a dichiararsi comune attento all'ambiente, praticamente, pubblicamente, non contro la chimica, cioè deve prendere posizione, il Consiglio Comunale, noi dobbiamo costringerlo a prendere posizione, di modo che eliminiamo quello che c'è di negativo che hanno fatto fino adesso, c'è tutte queste problematiche, però d'ora in poi nessuno si deve permettere a Siderno di piazzare chimiche o altre balordaggine, non devono bisogno di turismo, bisogna costringere Sindaco, Consiglio Comunale a dichiararsi a favore dell'ambiente, ma costringerlo a prendere un incazzato, ragazzi, che non è questione di parlare così, parliamo io e voi, si discutiamo quando indigliamo, poi domani io mi trovo io o io, e che l'altro chiediamo sulle prime scatole, no, qui bisogna incazzarsi, per me è andata bene come cosa, guarda, io già parlo, già sono incazzato, perché io ho questo problema, che mi incazzo facilmente quando parlo di determinati argomenti, se parlo di ambiente non è, quindi, se siete disposti ad incazzarmi, se siete disposti a fare questo, non mi fate perdere tempo, se no, lo dite e vi escludete, così sappiamo chi è, 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 chi è da una parte e chi è da una parte, ok?